L'abbigliamento sportivo è per il tempo libero. Dalla fine del 1800 al 1920. La grande sbania di fine 800 fu quella dei viaggi e delle villeggiature, dei viaggi di nozze e delle cure termali. I primi stabilimenti balneari diventarono punti di ritrovo mondano e occasioni di sfoggio dei modelli più vari. In genere le vesti per la villeggiatura e da viaggio erano più semplici, avevano gli stessi accessori degli abiti da città, ma con i copricapi e cappellini a più larghe tese, per proteggere la pelle dai raggi del sole. Si cominciò a delineare anche una moda da spiaggia, riservata ancora a un'elite di ricche signore libere e all'avanguardia, che prevedeva anche un castigatissimo costume da bagno. Il nuovo culto per la salute e per l'igiene fece dilagare alla fine dell'ottocento la mania dello sport anche per le donne. La pratica del nuoto, delle gite a cavallo, del tennis, del ciclismo richiesero quindi un tipo di abbigliamento assai più funzionale e più vicino ai tagli e alle forme maschili. A partire dalla fine dell'ottocento, durante la belle époque, in Europa si assiste a un progressivo miglioramento delle condizioni di vita delle classi più alte della società. Si viaggia più di frequente, sia per lavoro che per divertimento. In città vengono aperti ristoranti e caffè che diventano luoghi di ritrovo spesso famosi ancora oggi. La moda impone dei dettami da seguire in ogni occasione, anche durante il tempo libero e l'attività sportiva. Andiamo ora a vedere qual è l'abbigliamento sportivo fra fine ottocento e 1920. Cominciamo con due attività molto amate dalla regina Margherita, l'alpinismo e l'automobilismo, per continuare con le principali attività sportive praticate in quei decenni. Alpinismo ed escursionismo. Vorrei cominciare facendovi osservare queste due immagini. Se non fosse per la scenografia circostante, potremmo immaginare la regina e i suoi accompagnatori in un contesto più cittadino. L'abbigliamento e gli accessori non sono così specifici, se non per una particolarità. In questa foto, dove la vediamo ritratta insieme al suo consorte Umberto I, e nella foto precedente, possiamo notare, tra le mani di tutti i personaggi, un lungo bastone. Era l'antesignano della piccozza, serviva per conservare l'equilibrio sul terreno scosceso e per puntellare il suolo quando bisognava affrontare qualche salita. Infatti, solitamente, all'estremità era facile trovare un puntale in metallo. Donna, forse non bellissima, ma sicuramente carismatica, colta e affascinante, Margherita fu sempre una regina molto amata dal popolo e dagli intellettuali. Amava moltissimo la montagna, e rese consuetudinari i suoi lunghi soggiorni estivi a Gressonet-Saint-Jean, in Val d'Aosta, dove ancora oggi si può visitare il suo fiabesco castello, realizzato tra il 1899 e il 1904. Margherita amava questi monti, dove la natura selvaggia le consentiva di essere se stessa, lontana dal protocollo e dalle aspettative di corte, dove la lingua germanica la faceva sentire a casa, dato che la madre era Elisabetta di Sassonia. Quando era qui, nonostante il suo castello fosse la pietrificazione dei suoi sogni, lei trascorreva molto tempo in mezzo alla gente, e soprattutto adorava le passeggiate e le ascensioni in montagna. In questo ritratto di Giuseppe Bertini, del 1890, possiamo riconoscere la regina Margherita. Lei, per 36 anni, dal 1889 al 1925, fece ritorno ogni anno a Gressonet durante i mesi estivi. Era sua abitudine, quando visitava le città italiane, indossare l'abito regionale del luogo che la ospitava, e questo gesto empatico la avvicinò ulteriormente alle donne italiane. Durante i soggiorni valdostani, la regina, imitata anche da altre nobili villeggianti, amava indossare il costume popolare locale, che, sul suo esempio, si è evoluto nella foggia ancora oggi in uso. La leggendaria antica gonna rossa, che le donne Gressonare indossavano quotidianamente nei campi, si è trasformata nel raffinato abito rosso scarlato attuale, ammirato da tutti e indossato con fierezza nelle festività patronali e in occasioni particolari, come ancora ai giorni nostri per la processione di ferragosto. Donna robusta, alta e in ottima forma fisica, appassionata ed esperta alpinista, caso raro, ai tempi per una donna, scalò diverse vette alpine, anche impegnative, e presenziò manovre militari degli alpini. Per questo motivo le venne dedicato il rifugio, la Capanna Margherita, costruito su una delle vette più elevate del gruppo del Monte Rosa, a più di 4.500 metri sulla punta Gnifetti. All'inaugurazione, avvenuta il 18 agosto 1893, la quarantunente regina partecipò di persona, percorrendo il ghiacciaio e pernottando nella nuova struttura. La capanna originale fu poi demolita nel 1979, oggi il nuovo rifugio laboratorio ospita 70 posti letto ed è sede della più alta stazione meteorologica d'Europa. Ho ritrovato un testo, intitoli Consigli per l'abbigliamento alle donne alpiniste, contenuti in un manuale Eppli sull'alpinismo uscito nel 1898, quando si costruivano in montagna i primi rifugi e la regina Margherita scalava il Monte Rosa col cappellino di feltro e veletta, indossando una gonna lunga fino ai piedi. In questo manuale si legge. Il busto va abbandonato completamente. Sostenere il seno con una cintura di flanella lunga due metri e larga centimetri cinquanta, da girare parecchie volte attorno alla vita. Portare maglie di lana lunghe fino al bacino. Camice di flanella con maniche fissate ai polsini. Mutande di flanella lunghe e serrate alla caviglia. Giacchetta con maniche lunghe e con almeno cinque tasche tutte abbottonate. Calzoni corti alla zuava, legati sotto il ginocchio. Così fattamente vestite, gentili lettrici, non oserete certamente scendere nelle vallate e presentarvi degnamente a una table la vostra persona sarebbe tutt'altro che estetica e pudica. Potete ovviare provvedendovi di una coperta plaid da serrare in vita a mo' di gonna e che deve essere abbastanza lunga da arrivare al collo del piede. La stessa potrà anche essere usata quale mantellina in caso di pioggia o di scialle per il freddo. Le scarpe devono essere larghe di tacco, di suola e di punta, ben chiodate e bisogna ordinarle da un ciabattino di montagna. Sulla neve poi bisogna senz'altro usare la maschera di mussolina bianca fatta su misura ed ungersi il viso preventivamente con grassi animali, onde evitare che i raggi indiscreti del sole abbiano a congestionare l'epidermide facciale, rendendola color mattone, cosa scoraggiante per una donna che ambisce di essere e rimanere decorosa e presentabile. Automobilismo Nel 1905 la regina Margherita fece un viaggio, in incognito, attraverso l'Europa, percorrendo complessivamente quasi 5.000 chilometri con la sua Sparviero. Un'automobile Fiat con 24 cavalli di forza. La velocità media fu di 30 chilometri orari. Partendo dal castello di Stupinigi, il 7 settembre, in compagnia di una marchesa, una contessa, tre autisti e un meccanico, come vediamo nella foto di gruppo. A bordo erano anche trasportati 330 chili di bagaglio diviso in quattro bauli. In più, contro uno sportello era posizionata una piccola farmacia e contro l'altro una ricca collezione di guide e cartine stradali. La totalità esatta dei chilometri percorsi è 4812, attraverso Francia, Svizzera, Lussemburgo, Germania e Olanda. L'escursione è durata 39 giorni. Sulla prima pagina del settimanale la stampa sportiva, uscito a Torino il 5 novembre del 1905, è riportata la foto della partenza di sua maestà dall'Aia, in Olanda, dove, malgrado l'incognito, la folla ha riconosciuto e acclamato la regina. Non so se riuscite a vedere i bambini arrampicati sulla base del lampione. Sicuramente potete notare l'abbigliamento della regina, infagottata nello spolverino, ma di questo parleremo tra poco. Fu anche una delle prime donne a guidare l'auto, partecipando, già regina madre, a raid turistici e mediatici e avendo un garage con auto a uso esclusivo. Un garage che le case automobilistiche non mancavano mai di arricchire con nuovi modelli, perché la loro migliore pubblicità era certamente fatta da una foto della regina Margherita su una propria auto. Margherita amava guidare personalmente la sua palombella, l'itala costruita appositamente per lei nel 1909 e disegnata dalla ditta Cesare Sala di Milano. Era rivestita in tessuto grigio perla e passamaneria dorata e con maniglia a forma di aquila sabauda in argento massiccio. Fu indubbiamente la prima regina a fare un lungo viaggio in macchina, da Roma a Firenze e poi Bologna sino in Germania. Poiché la maggior parte delle prime automobili era aperta e le strade non erano tutte asfaltate, per viaggiare in auto comodamente, il corpo e il viso dovevano essere protetti, per esempio con un lungo soprabito di tessuto di colore chiaro, detto spolverino, occhiali di protezione e cappellino serrato al capo da un nastro o una veletta. Per onor di cronaca devo aggiungere che lo spolverino ha origini più antiche, perché veniva già indossato per i viaggi in carrozza. Battute di caccia ed equitazione. Ecco nella foto Margherita a cavallo. Tra i modi di trascorrere il tempo libero le classi più ambienti scoprono appunto lo sport. Le attività che per prime hanno successo sono le battute di caccia, che dalla Gran Bretagna conquistano molti altri paesi come l'Italia. Diventano numerosi gli appuntamenti di caccia alla volpe, come quelli nelle campagne romane, che vedono la partecipazione dell'aristocrazia e delle personalità più importanti dell'epoca, come Gabriele D'Annunzio. Si radunano gruppi di persone eleganti, tra cavalieri e amazzoni che spiccano per la loro bellezza e destrezza nell'andare a cavallo, spesso immortalati da pittori e fotografi. In questo periodo non è certamente comodo cavalcare per una donna. Il dress code prevede un abito nero con giacca avvitata e gonna molto lunga per coprire totalmente le gambe mentre l'amazzone è a cavallo. Per di più, la donna non può cavalcare come un uomo, non è ritenuto opportuno, quindi deve montare a cavallo sedendo su un fianco. Completano l'outfit, il cappello a cilindro, la camicia bianca a collo alto e i guanti. Ciclismo. Negli ultimi decenni dell'ottocento guadagna un successo sempre maggiore anche la bicicletta, chiamata all'epoca velocipede e preceduta dal triciclo perché aveva appunto tre ruote, come potete vedere nella prima foto. Andare in bicicletta però non è semplice per le donne. Le lunghe gonne si impigliano nelle ruote e non è certamente possibile adottare la seduta di fianco come a cavallo. Iniziano così a diventare sempre più tollerati i pantaloni a sbuffo che le donne indossano per andare in bicicletta. Quindi sono dei pantaloni molto ampi, arricciati in vita e al fondo, cioè sotto il ginocchio, dove terminano con un'altra arricciatura. Anche se si possono usare solo in questi momenti, i pantaloni a sbuffo consentono di sperimentare una nuova e apprezzata libertà nei movimenti, senza l'ingombro delle pesanti strutture che sostengono i tanti metri di stoffa degli abiti. Diventa più facile camminare, sedersi o alzarsi. Tiro con l'arco e golf. Oltre alla caccia, diversi sport iniziano a contare un numero sempre maggiore di appassionati e appassionate. Con l'inizio del ventesimo secolo le donne si dedicano ancora di più alle attività all'aria aperta, che regalano momenti di socializzazione, divertimento e occasioni per mettersi alla prova al di fuori delle mura domestiche. Il tiro con l'arco conta molte appassionate, come anche il golf. Si tratta di sport che non prevedono movimenti ampi e veloci e possono essere praticati senza problemi, continuando a indossare le gonne lunghe e gli ampi cappelli. Tennis e pattinaggio Ma anche sport che richiedono maggiori movimenti conoscono un grande successo. È il caso del tennis e del pattinaggio. Per correre da un lato all'altro del campo, le donne vestono camicie bianche e gonne lunghe fino alle caviglie dello stesso colore, ai piedi stivaletti scuri, a volte un cappello di paglia e perfino un cravattino. Ne è un esempio la prima campionessa di tennis, l'inglese Charlotte Cooper, che diventa famosissima giocando a tennis, indossando camicie e gonna lunga e maneggiando una pesante racchetta di legno. Come potete vedere nelle tre schede a colori, dal 1890 al 1920 l'abbigliamento della temmista si trasforma, diventa più pratico. Le gonne si accorciano mostrando calze e scarpe bianche. Il cappellino sparisce e viene rimpiazzato da una fascia leganta intorno alla testa. L'ampiezza della gonna è garantita dalle pieghe, che assicurano comunque una libertà di movimento quando necessario. Anche il pattinaggio sul ghiaccio viene praticato seguendo dei codici precisi, che non si discostano dai principi di pudicizia e di adesione ai canoni di moralità dell'epoca. Complice anche il freddo, le pattinatrici vestono pesanti cappotti e coprenti cappelli, spesso bordati di pelliccia, con gonne in lana o panno, guanti o manicotti. La campionessa britannica di pattinaggio artistico d'inizio novecento è un esempio perfetto di quale sia l'abbigliamento sportivo durante la belle époque per questo sport. Il nuoto Il mare fa da sfondo a un altro grande cambiamento nell'abbigliamento sportivo durante la belle époque. Nell'ottocento si comincia ad andare al mare in estate. I suoi benefici vengono ricercati da un numero sempre maggiore di persone. Anche la regina Margherita amava soggiornare al mare, in particolare a Bordighera, nella riviera Ligure, dove volle farsi edificare la villa che ancora oggi è visitabile e sede di mostre temporanee, chiamata appunto Villa Regina Margherita, dove scelse di risiedere negli ultimi anni. Inizialmente al mare non ci si abbronza, si sta ancora prevalentemente all'ombra e vestiti di tutto punto, ma piano piano le cose cambiano. Vengono lanciati i primi costumi da bagno, che sono castigatissimi e realizzati in tessuti pesanti come la lana, in modo da non aderire o essere trasparenti una volta bagnati. Malgrado ciò, questa è una grande rivoluzione per la società dell'epoca, che inizia a scoprire un po' di più il proprio corpo, a giocare con le onde e a divertirsi senza l'intralcio di metri di stoffe, pizzi e fiocchi.